Buongiorno a tutti! Buongiorno, buongiorno Lorenzo, come va? Venerdì oggi? Buongiorno Fabio, tutto perfetto. Thanks God, it's Friday! 7.06 minuti, venerdì 29 settembre. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Invece no, ti pensavo prima mentre mi svegliavo. Ho pensato, ho detto, non so se oggi Lorenzo viene in radio o no. Anche se è venerdì ho l'occhio più calante del solito. Devo dire che questa settimana sto patendo anche io la settimana un po' intensa che abbiamo avuto, ma una bella settimana. Insomma, abbiamo avuto delle mattinate belle piene, belle pregne. Sì, infatti cogliamo l'occasione per ricordarvi che potete rivedere tutti i contenuti che facciamo in queste due ore di Good Morning Milano, qui su Cristal Radio Milano, 96.2 in FM, da Plus, sito, app, dove volete, e appunto i contenuti, le interviste, le rubriche, gli sketch, eccetera, verranno tagliati e caricati sui nostri profili social e alcuni anche su quelli di Cristal Radio. Ovvio, profili social di Milano News, di Cristal Radio, sul sito di Milano News e ovviamente sul canale YouTube di Milano News, in cui potete trovare tutto quanto, abbiamo tutte le nostre belle playlist, è bello ordinato finalmente, con le belle playlist, con le copertine come piacciono alla nostra Elisa Balzarotti, che è la nostra responsabile dei social, che se no si arrabbia se non facciamo le copertine, quindi insomma, tutto fatto bene come deve essere fatto e come deve essere fatto anche qui su Cristal Radio, partiamo con un po' di buona e bella musica. È il momento di tornare un po' indietro negli anni, era il 2008 e Cesare Cremonini faceva una sorta di rassegna stampa, diceva, dicono di me. 7-12 minuti, 7-12 minuti, venerdì 29 settembre, seduti con il caffè, non pensavo a te, ovviamente ogni volta che dici 29 settembre devi dire seduti con il caffè, non pensavo a te, e comunque sempre qui su Cristal Radio con Good Morning Milano, insieme al nostro Lorenzo Masieri, insieme ai giornali di informazione e appunto partiti, è la sigla giusta per la rassegna stampa, a Cremonini dicono di me, cioè, cosa dicono di te? Eh, sapresti cosa dicono di te? Eh, non lo so. Eh, sapresti cosa dicono. Ah, guarda, guarda, brutte cose, brutte cose. Ieri ho saputo che qua in redazione si dice che sono particolarmente addormentato quando finisco. La cosa bella è quando finisci, non quando inizio. Quindi pensa, perché non mi vedono quando inizio. Può essere, può essere. E invece cosa dicono i siti di informazione? Allora, partiamo subito con una notizia che riguarda l'incontro che si è tenuto ieri, più un report, ecco, dell'incontro che si è tenuto ieri a Roma tra il sindaco Sala e il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. Cosa hanno detto? Giovedì 28, appunto, si sono trovati e si è parlato di Metro Trananvia, Milano Limbiate, vi ricordate che ne abbiamo parlato un paio di giorni fa. La Freccia Arancio. Il Freccia Arancio. Il Freccia Arancio, sì, la Valle Vecchia. Fulmine Arancio, mi ricordo qualcosa. Ed l'M1 fino a Baggio. Ancamò. Eh, infatti, quante volte si è parlato dell'M1? Allora, ti dico un piccolo angolo familiare di Casaranfi. Nel 1975 i miei genitori vanno a vivere in quel di Villaggio Cavour, frazione del Comune di Sette milanese, confidante con Baggio. E quando stanno facendo i lavori, così, per il terreno e tutto, adesso non mi ricordo bene se è l'ufficio tecnico, chi dice, beh, avete fatto bene, perché fa qualche anno arriverà la metropolitana a Baggio. Non è mai arrivata. 1975. Niente, quindi, ma arriva o no? Cosa gli ha detto? Gli ha detto, no, chiede a papà di Fabio che non arriva. La notizia prevede il fatto che se ne si è parlato. Ah, ok. Poi, anche perché appunto sappiamo che da diverso tempo è molto acceso il dibattito, soprattutto a Milano, sulla sicurezza stradale, e Sala ha affermato di non voler trasformare Milano, dice Milano Today, in un'enorme zona 30. Quindi, sostanzialmente, quello che ha deciso di... Quindi è già ritornato sui passi del Consiglio Comunale, no? Quello che ha deciso di fare Bologna, quindi. Ma è favorevole, si dice, ad aumentare il numero degli autovelox per spingere gli automobilisti a rispettare i limiti prescritti. Come sapete, se ci sentite tutti i giorni, io sono particolarmente critico. Su Milano è una zona 30 proprio per il fatto del controllo. Eh sì. Quindi... Sì, c'è da dire però che la maggior parte degli incidenti che abbiamo riportato in queste settimane di Good Morning Milano... Non hanno a che fare con la velocità. Non hanno a che fare con l'ingombro, più che con la velocità. Con la grandezza, con l'impossibilità dei camion di fare le manovre corvette. Una volta abbiamo parlato anche di un autobus che ha tirato dentro una signora. Quindi, insomma, non è necessariamente un problema di velocità. Poi è vero, quella là, la macchina che aveva carambolato sul marciapiede, aveva fatto un bullying in via l'Orenteggio, effettivamente, insomma, non era invece quello sì che era legato alla velocità. Giustamente, facciamo le zone 30, facciamo le zone 20, 50, anche 150, ma il problema poi è il controllo, nel senso, cioè, cerchiamo di capire come fare a vedere effettivamente quello del problema. Ricordiamoci però che, ad esempio, l'Arabi ha più di 100 passavalti dotati di telecamere, macchine fotografiche, c'è tutto un sistema elettronico che l'hanno fatto. Ricordiamo quel povero signore che ha preso, non so quante multe, più di 100 multe, perché non si è mai accorto di entrare tutti i giorni in area B. E ricordiamo velocissimamente anche il fatto che, comunque, incidenti, eccetera, quando ci sono dei posteggi vicino alle strisce pedonali che non sono segnalati, vuol dire che lì è meglio non parcheggiare per la sicurezza di tutti. No, infatti, per la sicurezza di tutti. E per la sicurezza e per, soprattutto, la viabilità, adesso ci colleghiamo con Luce Verde. Fabio, 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 non io, Fabio Rovazzi, però mi stavo autocchiamando, non ero nato matto completamente. 7 e 19 minuti, venerdì 29 settembre, sempre qui, in diretta su Crystal Radio. Trapperti oggi è il primo 29 settembre senza di lui. Di lui chi? Eh, lui, il presidente. Ah, è vero che oggi c'è l'inaugurazione. E poi c'è anche di tutto, c'è oggi allora. Allora, 29 settembre, compleanno di Silvio Berlusconi. Di Pierluigi Bersani. E anche di Pierluigi Bersani. A me questa cosa ha sempre piaciuto tantissimo. Anche a me. Si sfidavano proprio... Pierluigi Bersani? No, la cosa del compleanno insieme, no? Quindi, primo però, compleanno senza il Cavaliere. Però, appunto... Infatti, cosa ha fatto Regione Lombardia per commemorare? Regione Lombardia inaugurerà oggi, penso, in mattina, in pomeriggio. Sì, sì, vogliamo vedere. Poi controlliamo per bene il Belvedere a Palazzo Lombardia, che appunto sarà intitolato a Silvio Berlusconi. A Silvio Berlusconi. Belvedere è parola che, secondo me, ripeto, Silvio Berlusconi ha detto tante volte da sua. Spesse volte. Che Belvedere, ha detto così. D'ora in poi, quando ci saranno, se non sbaglio, il Belvedere di Palazzo Lombardia è quello che ogni tot viene aperto. Sì, viene aperto. Ci sono tipo quattro volte all'anno. Sì, ma viene usato spesso per le conferenze stampa, viene usato spesso per le presentazioni. Quindi, insomma, era chiamato a Belvedere Silvio Berlusconi. Quando sei qui con me? La prossima volta che vi capiterà ad andare, sapete che siete sul Belvedere Silvio Berlusconi. E tanti auguri allora anche a Pierluigi Bersani. E un saluto, come sempre, a Samuele, invece. A Samuele, che non è. No, però ogni volta che vi faccio a Bersani, penso a lui, lui ha lasciato belle cuffie, ha lasciato belle canzoni. Non so, mi viene sempre in mente lui con la cuffione che canta delle canzoni belle. Vabbè, certo, certo. Da Kikko Spillo a tanti nuovi. Cioè, fantastico. È nexano. Eh, ma quella. C'era quella del caricatore del cellulare, che era bellissima. Non lo conosco. Adesso, allora, 331-78-535-55. So che qualcuno che ne ascolta in questo momento Mi può dire il titolo della canzone di Bersani Quella che parlava del cellulare dimenticato Era bellissima Romanticissima L'ultimo disco di Samuele Bersani è stupendo Cinema Samuele se non sbaglio è capolavoro Tutto questo per fare gli auguri a Pierluigi Bersani E ricordare infatti che oggi sarebbe stato L'ennesimo compleanno di Simba Berlusconi Primo compleanno senza Il Cavaliere Ma se volete ricordarlo e commemorarlo Appunto Regione Lombardia Adesso cercheremo per bene Il nome del Belvedere Al 35esimo piano Penultimo piano Penultimo piano Di Palazzo Lombardia Che non è il Pirellone È un altro mi raccomando Palazzo Lombardia ha dato il nome a Silvio Berlusconi Quindi Belvedere Silvio Berlusconi Noi stiamo Andando già verso la fine della prima mezz'ora Un attimo Tre parole sono già arrivati Sono le 7 e 23 Una canzoncina Partiranno poi i nostri spot della mezz'ora Ma poi comunque torniamo qui Anzi anticipiamo un po' i tempi quest'oggi Perché poi abbiamo anche ospiti Nella seconda parte della trasmissione Collegamenti esterni Quindi insomma Dobbiamo cercare un attimino Di accelerare il tutto Per andare appunto A raccontarvi al meglio Come sempre qui Su Crystal Radio E come ricordo sempre Su Milano News La mattinata milanese Ricordo ancora una volta Il nostro numero di Whatsapp 3317853555 Potete scriverci Mandare foto Audio e tutto È arrivato infatti Sapevo L'audio della canzone di Bersani Che è Cellulare e carta sim Che però mi dicono Non era di Bersani Ma di Cristicchi Allora però dai Io ho convinto fosse sua Va bene Ci vediamo fra poco Allora Ciao ciao 7.30 minuti Come promesso Dopo appunto la mezz'ora Rientriamo qui Per l'ennesima ora Insieme a voi Siamo ben contenti Di stare qui con voi Tutte le mattine Dalle 7 alle 9 Su Crystal Radio E in diretta Su Milano News Dagli studi di Milano News In quel Di San Siro Con Lorenzo Masieri E le informazioni E Fabio Ranfi E i suoi sproloqui Bene Torniamo sulla notizia Oggi 29 settembre Ripetiamo Il compleanno di Pierluigi Bersani Ma anche Il compleanno di Silvio Berlusconi Primo compleanno Senza Cavaliere E Regione Lombardia Appunto ha voluto Ricordarlo Appunto intitolandogli Il Belvedere Al 39esimo piano Di Palazzo Lombardia Presenta La cerimonia Di inaugurazione Diciamo Ci saranno Appunto Il fratello Paolo Giusto La figlia Barbara Accompagnata Da Fedele Confalonieri Perché Accompagnata Barbara E Fedele Non sono insieme Forse lavorano insieme Adesso Non lo so Perché Barbara Non lo so Sono quelle cose strane Dei giornali Perché usano parole Un po' a caso Per rendere l'idea Sbagliata Ma c'è bisogno anche Di una figura istituzionale E chi viene E chi viene Matteo Salvini Il ministro delle infrastrutture E dei trasporti Adesso Ieri Sara è andato a Roma Ma infatti Sara doveva parlare con lui E dire che è andato a Roma Poi dovevessi oggi Allora Non lo so La questione è una Matteo Salvini Un giorno sì Un giorno no Viene da Roma A Milano Ok Di conseguenza A questo punto Sì Dico subito Io personalmente Non sono favorevole Però rilanciamo Per lui A questo punto Una delle sue grandi battaglie Ossè di spostare Un ministero E quale sposteresti? È il suo A questo punto Giustamente Per forza Perché tu sei d'accordo Con spostare Un ministero A Milano Ovviamente Da orgoglioso milanese Sarei d'accordo Per Milano capitale Poi Quando ci penso Dico Ma tutte le menate Le rotture di scatole Lasciamole a Roma E noi godiamoci Il resto Quindi è più logistico Ovviamente Se mi dicessi Milano Cioè sì No Io sono proprio Milano Io sono per Milano Città Regione Città C'è l'Italia E i Milani No Però è così C'è un separatista Buono Nel senso Non è che sono Esistono separatisti No Ma non perché Mi stanno sulle palle Gli altri Ma perché mi stanno Simpatici milanesi Cioè Capito È un dire Contrario Io invece sono favorevole All'accentrazione Di potere All'accentramento 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 Del potere A Roma A Roma Sì Perché tanto C'è per una questione Geografica Non tanto per altro Ma se a me interessa Solo Milano Metto Milano Geograficamente Sono comodo Anzi Tenderei a metterlo Intorno a Baggio Proprio Perché è comodo Per me Baggio capitale Capito Neanche Milano Baggio capitale Dell'energia Vorrebbe Salvini Con la centrale Sì 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 Tutto Facciamo così Facciamo così Però va bene Nel senso Cioè vediamo Poi ne possiamo parlare Qualche Ma penso C'è stata una delle prime battaglie Che è stata abbandonata Completamente Devo dire Che l'idea di spostare Qualche ministero Forse non ha Preocupito Questo Cioè Boh Non mi viene Non so Sposti il ministero Del mare Se mai esistesse Esiste Ma stai scherzando Si chiama Ministero del mare No Sì Cioè Del mare Mezzogiorno Musumeci Ecco Lo sposti A Palermo Lo sposti A Napoli Boh Forse posso concepirlo Ecco Il ministero del mezzogiorno Lo spostiamo del mezzogiorno Ha senso Facciamo il ministero Delle comunità montagne Lo spostiamo a Sondrio Potrei concepirlo Altri ministeri No beh Effettivamente Ma poi ti dico la verità Cioè Tutti i casini Che portano A una città di capitale Cioè Diventare la capitale d'Italia Lasciamola a qualcun altro Noi va bene così Già siamo abbastanza incasinati così Però Ovviamente Sulla carta Mi piacerebbe Sì Cavolo Se mi piacerebbe Se mi piacerebbe Un po' di musica adesso Are you ready Milano? Wake up Fortissimi Mamma mia Bellissimo Bellissimo Eroni Muse Alle 7.37 minuti Su Crystal Radio Buongiorno a tutti Come state? 331 7853 555 Cosa state facendo In questo momento? Scrivetecelo 331 7853 555 State facendo colazione? Scrivetecelo 331 7853 555 State lavando i videnti? Mandateci un audio Non è facile Ma potete farcela Ai più bravi In premio Un bel Grazie Stamattina abbiamo dei grazie Una bella pacca sulla spalla Abbiamo dei grazie Che possiamo regalare Quindi Grazie all'ufficio Programmazioni E premi E cotion Si chiama così proprio Visto che abbiamo scoperto Che io Prima Con la battuta di prima Ho detto Ebbè se ci fosse un ministero del mare E c'è invece Politiche del mare Politiche del mare Protezione civile Politiche del mare Musumeci Protezione civile Così Messe a caso Messe insieme Io penso che la logica Essendo Musumeci Quindi ex Presidente Della regione Sicilia Per la gestione Dei migranti Non lo so Non lo so Infatti per la produzione civile Fa anche altro Fa anche i terremoti Fa tutta buona Non lo so Comunque Cosa dicono i giornali Oltre a scrivere cose strane A proposito Di migranti Appunto L'ex caserma Di Legnano Ha stabilito Un accordo Con la prefettura Di Milano E ospiterà 98 migranti Ciume 98 Cioè capisci che noi Diamo delle notizie A volte Che se tu puoi vedere i numeri C'è tutto sto casino Per 98 persone Che potresti tranquillamente Smistare Senza grossi problemi In strutture che già esistono Senza fare I pullman Che poi la gente Si mette attraverso Sulla strada Perché non ha capito Cosa arriva E ha paura Cioè mi ricordo Queste immagini Che insomma L'hanno visto più di una volta Veramente C'è questa strumentalizzazione Dell'immigrazione Che a me fa veramente arrabbiare Da parte Sia della politica E di dirò la verità Tutta la politica Perché Dalla parte cavalcano Dall'altra smontano Dalla parte smontano Dall'altra cavalcano Così E poi soprattutto Dai miei colleghi giornalisti Che veramente Come dei ciucci Vanno dietro a questo trend Perché Perché fa click Semplicemente Ma perché È un argomento Un argomento Obiettivo Cioè Complesso Molto complesso Oggettivamente complesso Che però Attirando L'attenzione di tutti Anche se complesso Da parte di stampa e politica C'è la volontà di ridurlo All'osso Con sostanzialmente La famosa logica Porti aperti Porti chiusi Che nessuna delle due Chiaramente è giusta Ma anche solo pensando Che ad esempio Negli anni La questione migratoria È passata Da diversi tipi Di politiche E attenzioni Anche ministeriali Un esempio Sono gli Stati Uniti D'America Dove ad esempio All'inizio del secolo L'immigrazione veniva gestita Dal ministero Insomma Non mi chiamano Nel ministero Della salute Quindi l'immigrazione Era vista come un problema Sanitario Perché entravano All'inizio del secolo Scorso Malattie Quindi bisognava gestire così Poi è passato Sotto il ministero Della difesa Perché era un problema Di difesa Del territorio Della sovranità Oddio Rimano i comunisti E idem noi Io quando penso Che l'immigrazione È gestita Dal ministero O della difesa O degli interni Dico c'è un problema Perché secondo me L'immigrazione Dovrebbe essere invece Il ministero del welfare È quello che dovrebbe sistemare E gestire Le situazioni In cui qualcuno Arriva Non sa dove andare Non sa cosa fare In una situazione come l'Italia Io faremo ministero a parte Che collabora con altri E soprattutto Che collabori magari Con l'Unione Europea Che insomma Come sempre È il faro importante E che si faccia appunto Un bel lavoro Perché l'Unione Europea Collabori con noi E secondo me Abbiamo tutto il potere Per poterlo fare Ma adesso un po' di Marco Mengoni Ed lo dico Pazza musica Pazza musica Marco Mengoni Ed lo dì 7.45 minuti Crystal Radio Lorenzo Masieri I giornali Luce Verde L'abbiamo sentito poco fa L'informazione in diretta Su Milano Tutto questo appunto È Good morning Milano E dopo questa No Questo poi lo tagliamo Infatti diventa il promo Che ore sono? Che ore sono? 7.44 Social 7.44 Taglia il pezzettino Riprendiamo Velocemente Il discorso Che stavamo facendo prima Su La gestione Sostanzialmente Non solo Della comunicazione Ma anche Pratica Dell'immigrazione Ricordando Che lunedì Qua Ospite A Good morning Milano I nostri microfoni Ci sarà l'avvocato Giovanni Motta Per quanto riguarda La gestione Del CPR Di Via Corelli Quindi lunedì 2 ottobre Si torna sul tema CPR Sapete Ne hanno parlato tanti In questo periodo Posso per una volta Avantarmi di una cosa Milano News Ne parla ormai Da 2-3 anni Periodicamente Abbiamo anche Fatto delle bellissime interviste Che potete andare a trovare Sul nostro sito Non siamo Lo dico Non siamo Super Partes Sul tema Cioè proprio Siamo Da una Partes Però se volete Ascoltare bene Quale Partes siamo E diare spazio Alla parte Che da Diciamo Stiamo a mano Alla parte dei diritti In realtà Quindi non è che È una parte strana Però comunque Se volete Sapere di più Lunedì mattina Ne parleremo Con appunto L'avvocato Giovanni Motta Della rete No CPR No No Ma è più Lager No CPR E vi assicuro Quell'utilizzo La parola Lager Che io Le prime volte Che veniva Giovanni Mi sono un po' esagerato E tutto Non è niente In confronto Alla realtà Che lunedì mattina Racconteremo Anzi dovremmo stare Un po' più Serie Mi raccomando Cerchiamo di Mi raccomando Ah no A me lo dice Mi raccomando Me lo dicevo Allo specchio Ok va bene Va bene va bene C'è qualcos'altro Lorenzo Sì Allora L'edilizia Lombarda Cresce L'edilizia 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 È lady Esatto No la signora Lizia Lady Lizia Hi Hi I'm lady Lizia La famosa battuta Del giornalista Se non sbaglio Era Tony Bongi Non so se sei presente Come Ma vedo come Ma può uscire Se sei capace Che diceva Ah beh Era una battuta Molto divertente Adesso A Milano Molti edifici Vengono fatti Alla Carlona Adesso Andremo a intervistare Signora Carlona Ah però Bellissimo 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 L'edilizia Lombarda Cresce Del 7% I prossimi mesi Saranno positivi Andando a battere Anche i record Del 2022 Appunto nel settore Lombardo Dell'edilizia Stiamo costruendo ovunque Il titolo Ansa Lombardia Purtroppo Purtroppo Sempre per quanto Riguarda L'edilizia E la Diciamo Il lavoro In quel settore Oggi A Basiano Dobbiamo riportare Un'altra vittima Sul lavoro 51 anni Investito da un tir Nel centro logistico Di una Catena Di supermercati Non ha che fare Ho sbagliato Il Diciamo Il Come si può dire Il gancio C'erano i camion C'erano i camion Di mezzo Si sta parlando Di roba Grossa C'è roba Di dimensioni L'ennesimo 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 Infortunio Anzi in questo caso Morte sul Lavoro Appunto ne parlavamo Qualche giorno fa Insieme Al Presidente Del Nazionale De la Nazionale Sicurezza sul lavoro Pietro Vassallo Ne parlavamo con lui Diciamo Dobbiamo cercare di parlare Di lavoro Non solo quando ci sono Le disgrazie Il problema è che veramente Quasi ogni giorno Siamo qua a raccontare Di qualcuno Che ripeto A me questa immagine Mi lascia sempre a stare fatto Esce la mattina Per andare al lavoro E non tu Saluta Chi deve salutare Anche se fosse da solo Comunque Se ne va E non torna a casa Semplicemente Perché è andato a lavorare E insomma Riflettere gente Riflettere Mamma 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 Ti sai da che Soprisa Sta canzone No Michael Jackson Mamma 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 Un sample Preso da Michael Jackson Che a sua volta Comunque L'aveva preso Da un'altra canzone Degli anni 70 Che era quella di Mano di Bango Credo Se chiamasse Che era tipo Soul Macosta Una cosa del genere Un album Un po' strano Comunque Musica afro E lui l'ha preso L'ha messo dentro Una canzone sua E qui invece Rihanna La riprende Appunto Vabbè Non lo sapevo Piccolo Nota Così A margine Mi piace sempre Io seguo un paio di siti Proprio Che danno Tutti i riferimenti Dei sample Che trovi nelle canzoni Mi piace tantissimo C'è un bellissimo sito Che si chiama Who Sampled E vi dice Dentro la canzone Dice Guarda che al minuto 15 Al minuto 3 Al minuto 6 Al minuto 1 C'è quel pezzettino Che hai preso Una canzone degli anni 70 Poi a vedere A sua volta Ti dice Che hai preso D'altre cose Comunque Molto interessante Comunque Per chi chiama La musica Può essere una cosa bella 7.53 minuti Siamo quasi arrivati Alla fine Della nostra prima ora Fra poco Che torniamo qui in diretta E poi alle 8.30 Ospite Emanuela Rippo Del Giardino dei Giusti Perché si stanno concludendo Le celebrazioni Per il ventennale Del Giardino dei Giusti Ci spiegherà un po' Che cos'è E cosa hanno organizzato Appunto Quest'estate E l'iniziativa Dei prossimi giorni Che prevede appunto La festa Di Domani c'è una festa Se non sapete Cosa è il Giardino dei Giusti Ignoranti No Adesso ve lo spiegheremo Ve lo spieghiamo apposta Siamo qua Siamo qui apposta Quindi alle 8.30 Collegatevi Rimanete collegati qui con noi Vi spieghiamo perfettamente Che cos'è Il Giardino dei Giusti di Milano E appunto In questo Ventennale Vent'anni Di Giardino dei Giusti Noi ci freghiamo un attimino adesso Pochissimo Una canzone Poi il giornale radio E torniamo sempre qui Con voi in diretta Su cristalradio.it E Milano All News A fa poco Footloose 1984 Pensate 1984 Non hai neanche dei pensieri Dei tuoi genitori Eh no Ma meno male Ebbè Non c'è Ma hai visto il film Footloose Sì Nell'84 Anche quello Apprezzo molti film Degli anni 80 Ma Però c'è un Kevin Bacon pazzesco C'è un Kevin Bacon pazzesco In questo film Comunque Questo era Footloose 1904 Bentornati a Good Morning Milano Bentornati Sempre qui in diretta su Cristal Radio 96.2 FM Da Plus Sito di Cristal Radio E di Milano News Se ci volete vedere Perché siamo in diretta su Youtube E su Twitch E infine anche l'app Se volete scriverci 331-78-5355 E noi siamo qua appunto Ad accogliere i vostri messaggi Accogliere un po' le vostre suggestioni Sulla mattinata E noi cerchiamo di darvi invece qualche spunto Scartabellando Spulciando i giornali I siti di informazione locale Con il buon Lorenzo Masieri Esatto Allora parliamo di sport Parliamo Parliamo di sport Sì Ha un canale privilegiato Puoi parlare Della grande struttura Ancora di San Siro C'è una Dichiarazione anche oggi Importante No Prima di sport E poi per forza bisogna andare su San Siro Parliamo di sport Una notizia al giorno su San Siro Come si sa Deve essere sempre Allora Una I dati dell'anagrafe Dell'edilizia scolastica Hanno riportato Che al 31 luglio Su 5.977 edifici scolastici In Lombardia Quasi Una su due No Più di una su due Non hanno Una palestra Quante? 56% In media Mamma mia Non hanno la palestra Su quasi 6.000 edifici scolastici Più della metà Non hanno una palestra Sotto la media Ci sono Bergamo Comu Lecco Milano E Monza E Visto che si sta parlando di sport Sì Stadio San Siro Fontana Ci mancava Fontana Dispiace Non è un po' che non diceva una cosa con anche lui Dispiace che la scelta sia caduta fuori da Milano Ma non ci sono alternative Questo a margine dell'evento al Pirellone Dopo che appunto ieri Il Milan ha fatto il primo passo formale Per la realizzazione del nuovo stadio a San Donato Quale sarebbe il primo passo formale Non si sa A dirlo A dirlo probabilmente Se non ci sono alternative Ha concluso Fontana Riporta Ansa Lombardia Credo che tutti Si debba far Quadrato Con il Milan E con l'Inter Si inizierà un percorso analogo Sono frasi anche strane Sì ma un politico dice Dobbiamo fare quadrato con una società privata Per una roba sua Veramente io non capisco Cioè lo stadio è bene comune No cioè ragazzi Stiamo parlando di una società Non stiamo neanche parlando del campetto Cioè forse il campetto di quartiere Non gliene fa il cacchio a nessuno E invece quello è una cosa sociale Cioè è una cosa che fa bene alla città Alla regione A chi per esso Ma lo stadio del Milan Dove vada vada Fa bene solo ed esclusivamente Al Milan Cioè ma non perché Se non abbia su col Milan o con l'Inter Ma è così È come la Cioè Non porta neanche Si porta un po' di indotto intorno Ma è giusto il giorno delle partite Ma neanche a dire Capo un'azienda In un paese Allora ho 12.000 dipendenti Che vanno a lavorare lì E quindi va bene Porta Ma qui c'è Abbiamo veramente Parliamo del niente Del ridicolo Da quel punto di vista E stiamo a sentire Quello che le società comandano Fatevi Sto state dove volete Compratevi un terreno E non chiedetevi in giro Compratevi un terreno Ce ne sono dei terreni privati Che potete comprare Invece andare a chiedere I comuni in giro Compratevi un terreno E fatevi il vostro stadio Dove volete Ma infatti adesso Chiaramente si scherza a dire Che tutti i giorni Dobbiamo riportare una notizia Perché Però questo è Lo facciamo Per far vedere Quanto Con dichiarazioni Io faccio questo Io faccio quell'altro E un sacco di conferenze stampa In cui si presentano Rendering Poi Sono già Procedure Molto lunghe Facendo così In più Si allungano maggiormente Lo stallo Io ce l'ho Lo stallo decisionale Proprio una roba Che non riesco a sopportare Se tu facessi così Ogni volta che fai un esame In università Ti avrebbero già cacciato All'università Parole 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 Dimmi le cose Come stanno No Poi le perdiamo Poi Oh basta Fatevi sto stare dove volete E non rompeteci di stadio a noi Nel senso Basta Va bene Stamattina è un polemico Stamattina Venerdì Venerdì e lunedì Venerdì e lunedì No Venerdì Polemico Lunedì Poletti Ricordiamo Che tutti i lunedì C'è la rubrica Buon lavoro Ai microfoni di Good morning Milano Con Filippo Poletti Top voice di LinkedIn Trovate tutto online Poi Ecco Anche queste bellissime battute Di Lorenzo Masieri Partiamo Continuiamo Continuiamo con un po' di musica Foo Fighters Ti piacciono? Molto Immaginavo l'ho messo a posto dai Foo Fighters Foo Fighters Under you Foo Fighters Foo Fighters Sembra Or Youken Quello di Street Fighter Sembrava Colpo speciale No 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 Colpo speciale di Ken Or Youken Non so niente Non so niente Foo Fighters Foo Fighters Fai due volte su Tasto Ah ah due tasti su Foo Fighters Ma cos'è capito? Io ho giocato solamente a te E che ne basta Vabbè Simile Simile Molto simile Molto simile E se non sapete cosa stiamo parlando Anche noi Anche noi infatti Stiamo parlando malissimo Quindi Siete con noi 331 7853555 Il numero di whatsapp A cui potete scriverci Mandarci tutto quello che volete Continuo a dirlo Grazie dei messaggi Che stanno arrivando del buongiorno Sono andati un paio di colazioni Interessanti Con Cornetto E Cappuccino Cornetto Ho detto Non un brioche L'ho detto un po' Alla romana In italiano In realtà Brioche è molto nostra Milanese Anche se vai a Bologna A Brioche ti vada male A pasta Sì no Quello semmai è a Napoli A pasta Adesso l'ho detto male Ecco No ma sì sì no Sotto Cioè Non ho Cornetto Io non sopporto Chi dice Ho portato le paste Per dire i pasticcini Eh però sì sì È più italiano in realtà Siamo noi che qui Siamo un po' No sai cosa non sopporto Sai cosa non sopporto invece Quando sei Qui con me Tipicamente appunto Sud Italia Va al supermercato Signor Ha bisogno della busta Ebbè Al posto del sacchetto No Anche io dico busta No io busta Non lo so Sono mica in posta Cioè Sono al supermercato Non devo spedire niente No no Non ce la faccio Lì è sacchetto Sacchetto Con lei è così Anche sacchetto Questa è la voce Di Fabio Ranfi Che si lamenta Anche quando Sul fronte Degli autobus Trova Un piccolo difetto Sia il fatto Che sia scritto Più in grande Se volete Ho un minuto e cinquanta E ve lo spiego tutto È scritto Per te dice È scritto più in grande Diciamo La fermata a metà Che è la destinazione Ok sì Allora vi faccio un esempio Ma perché è un centro di interesse Un esempio semplicissimo Linea 49 Linea 49 Linea 49 Parte da Piazza dell'Otto E va Dove va Non mi ricordo neanche più Vabbè comunque va dall'altra parte Ah inganni va Scusa Cioè Sì vabbè Piazza di San Cristoforo Ok Piazza di Tripoli San Cristoforo 49 Parte da Piazza dell'Otto E va a San Cristoforo In mezzo Passa dall'ospedale San Carlo Sull'autobus C'è scritto Quello che va Che ad esempio Parte da San Cristoforo E va all'otto C'è scritto Destinazione Lotto Ospedale San Carlo Però c'è scritto anche in mezzo Ma se tu Quindi lo prendi Prima l'ospedale San Carlo Ci sta che c'è scritto L'ospedale San Carlo Ma se tu sali Due fermate dopo L'ospedale San Carlo Comunque Perché c'è ancora scritto L'ospedale San Carlo Io lì non capisco Ho paura Anzi lo vedo L'ospedale dico No no Quello che va dietro Capito Cioè ho paura di sbagliare Tra parentesi Questa avviene Alla fermata dello stadio Dove è pieno di turisti Quindi per questo Che no ma guardate Che io Sono rompiballe Su queste cose Ma ha senso Ma sei molto polemico Per quanto riguarda Quelle robe Trasporto Tipo San Siripodomo Ho sbagliato il nome Della fermata Sbagliatissimo Hanno fatto la fermata Ho visto dei cartelli Con scritto Non scendete quasi Dovete andare Alla Maura Allora San Siripodomo Non c'è più l'ipodomo Perché l'ipodomo Non è quello del galoppo Che è dall'altra parte Ma è quello del trotto Che era di fianco Che non c'è più Dove Ainz Sta costruendo le case Quindi L'ipodomo Adesso rimasto La Maura Che non c'entra niente Che dall'altra parte Tra parentesi Fermata più comoda Per andare alla Maura Ve lo dico Secondo me Uruguay Alla fine Però praticamente Pezzai l'otto Però no Appunto Da quando me l'hai fatto notare Ho visto Qua alla metro Di San Siro Che ci sono dei fogli A4 stampati In bianco e nero Appiccicati in giro Con scritto Se dovete andare All'ipodomo Alla Maura Dovete scendere all'ipodomo Centinaia di mila di euro Per sponsorizzare Le fermate Come dicevamo ieri Poi invece Un foglio a 4 stampato Per dire Non scendere qua Se devi andare alla Maura Vabbè Continuiamo con un po' di musica Francesco Renga All'infinito Più o meno Con NEC Alle 8 e 35 minuti Bentornati qui su Crystal Radio E su Milano News In diretta dagli studi Di San Siro Di Milano All News Inizia la nostra Ultima mezz'ora Che è la mezz'ora In cui parliamo Dell'attualità Abbiamo gli ospiti Che vengono a trovarci In studio In questo caso L'ospite di oggi È in collegamento Anche video Quindi volendo Su milano Il news.it Potete anche vedere Ere chi Caro il mio masiere Ere Manuela Rippo Responsabile Eventi di Garivo Buongiorno Manuela Buongiorno Manuela Buongiorno Buongiorno a tutti Eccoci E allora Garivo Il Giardino dei Giusti Beh Ne abbiamo parlato tante volte Quest'anno Poi vabbè È un anno particolare 20 anni Di Giardino dei Giusti Di Milano Tra parentesi Non ricordo mai questa cosa Ma è il primo Giardino dei Giusti Dopo quello Diciamo Originale Laggiù In quel di Gerusalemme Giusto? Sì Confermo Il primo Giardino dei Giusti È nato a Milano Nel 2003 E ha una caratteristica Speciale È un giardino Universale È un giardino Dedicato ai Giusti Alle giuste Alle giuste Di tutto il mondo Che si sono opposti E si oppongono ancora A tutti i genocidi Ai crimini contro l'umanità E alle persecuzioni Quest'anno Celebriamo il compleanno Del Giardino dei Giusti Come avete giustamente detto I suoi vent'anni Esatto E per sabato 30 settembre Quindi sostanzialmente Domani Ci sarà la festa Di fine Diciamo celebrazioni Per questo ventennale Giusto? Cosa c'è Riorganizzato? Sì Confermo Abbiamo iniziato Le celebrazioni Il 24 gennaio Che è stato proprio Il giorno In cui nel 2003 È stato inaugurato Il Giardino dei Giusti Abbiamo fatto quindi Questo primo compleanno Con un concerto A Palazzo Marino E chiudiamo domani Le celebrazioni Con una festa Di fine estate L'abbiamo voluta Chiamare festa Perché è una giornata Di attività Che coinvolgeranno Tutta la cittadinanza E partiremo Alle 10 Alle 10 e 30 Con una visita guidata In collaborazione Con Progetto Genesi Che avrà un taglio Un po' particolare Porterà ovviamente I visitatori A scoprire Questo luogo Della città di Milano Che si trova Al Montestella Ma avrà un focus Particolare Sul rapporto Tra arte E diritti umani E al termine Di questa visita guidata Che sarà fatta Dalle guide Che collaborano Con l'Associazione Per il Giardino Dei Giusti Incontreremo La curatrice Di Progetto Genesi Ilaria Bernardi Sto leggendo qua Il programma Il programma Per la festa Di fine estate Di domani Che poi continua Anche nel pomeriggio Vedo Continua In realtà La mattina C'è anche un laboratorio Per bambini Dall'età Dai 6 A 10 anni Non so se posso Definirli ancora Bambini A 10 anni Complicato Ma effettivamente Quindi bambini Bambine Ragazzi Ragazzi Da 6 A 10 anni È un laboratorio Che facciamo In collaborazione Con Favoliamo È molto interattivo I genitori Hanno la possibilità Di accompagnare I figli In questo laboratorio Che è un po' Tattile Un po' Formativo Un po' Ludico Che si svolgerà All'interno Dell'Anfiteatro Liano Varadice E poi riprenderemo Il pomeriggio Con un'altra visita Guidata Questa volta Generale Quindi che darà Una panoramica Di tutti I giusti Che sono onorati Al giardino Circa 80 E proseguiremo Con un concerto Un concerto Per arpa E fisarmonica Con un duo Con questi musicisti Che si chiamano Dora Scapola Tempore Walter Bagnato Organizzato In collaborazione Con musica Nell'aria Per circa un'ora Allieteranno Gli ospiti E il pubblico Non solo con questa musica Popolare e classica Ma anche in uno scenario Molto particolare Perché sarà la prima volta Che un'arpa Viene portata Al Giardino dei Giusti Siamo anche noi Molto emozionati Di vedere Questo bellissimo Strumento Elegante Ospite Dell'Anfiteatro E subito dopo Sarà offerto Anche un aperitivo Perché è l'occasione Di brindare Non solo A questo anno Ricco di attività Ma ancora una volta Per celebrare Questi vent'anni Del Giardino dei Giusti È molto interessante Vedere come appunto È una festa Di tutti gli effetti Cioè quindi Un luogo comunque importante Dove bisogna anche Un attimo Riflettere Quando si passa Diventa però anche Un luogo Dove ci si può Anche in un certo senso Essere proprio felici Di quello Che è il Giardino dei Giusti Cioè Anzi Io te lo dico sempre Sono molto felice Che sia a Milano Questo giardino Perché insomma Davvero porta Un grande valore A nostra città Cosa significa appunto Secondo te Per Milano Avere questa presenza Su quel luogo Così importante Che è il Giardino È un'ottima domanda Il Giardino Rappresenta L'umano Nell'uomo Quando è nato Il Giardino dei Giusti Su volere Del presidente Gabriele Nissim Del console Armeno in Italia Pietro Cucciucciana E delle filosofie Anna Maria Samuelli E Uliano Varadice L'idea fosse Che il Giardino Venisse ospitato In un luogo pubblico E aperto Alla cittadinanza Dopo tanto lavoro Sono riusciti Ovviamente Ad ottenere Il supporto Dell'Unione Delle comunità Ebraiche Del sindaco Di Milano Allora era Gabriele Albertini E di fatto Di tutto Il consiglio Comunale Di Milano Per far sì Che già Un luogo simbolico Della città Di Milano Quindi il Monte Stella Che sappiamo tutti Costruito Sulle macerie Della seconda Guerra mondiale Potesse ospitare Un luogo Prettanto simbolico Carico di valori Carico di Coraggio E di forza Da lì Il percorso È stato molto Molto lungo Si era iniziato Con tre targhe Dedicate a tre giusti Adesso Solo tre Rinizio Quanti sono adesso Dicevi? Un'ottantina Sono circa Ottanta E chi Che a Milano Che ha avuto modo Di visitare Il giardino Negli anni Ha visto anche Che qualche anno fa Nel 2019 C'è stata una piccola Trasformazione Ad un certo punto Ci siamo accorti Che il giardino Visitato Soprattutto dagli studenti Avesse bisogno Di avere Ancora di più Una conformazione Interattiva Perché è un luogo vivo Dove gli studenti Passeggiano Camminano Dialogano Con gli insegnanti Incontrano i giusti Perché poi ogni anno C'è la possibilità Di incontrare i giusti Quando sono ospiti Alla cerimonia Del 6 marzo La giornata dei giusti E nel 2019 Abbiamo Riqualificato L'associazione Ha riqualificato Il giardino Creando degli spazi Tra cui Questo bellissimo Amfiteatro Che ospita Circa 180 190 Posti A sedere Ovviamente Parliamo di Strutture Che si sposano Perfettamente Con il contesto Del Monte Stella Quindi Restano fortemente Presenti gli alberi E ovviamente Le aiole E i cespugli Chiarissimo La riqualificazione Mi sembra la parola Adatta Anzi È andata ad arricchire Forse anzi Arricchivento Di un luogo Già bello E già importante Come la montagnetta Di San Siro Come il Monte Stella Ricordiamo che si chiama Monte Stella Perché La moglie di Bottoni Si chiamava Stella Quindi c'è Anche questa cosa qui E Ancora in più Adesso Arricchito Da questa nuova veste Del giardino dei giusti Vi chiedo allora Di rimanere comunque collegati con noi Perché Rimaniamo ancora qui Parlare Del giardino dei giusti Ma prima appunto Un po' di musica Qui su Crystal Radio Abbiamo parlato del giardino dei giusti Puoi fare la cosa giusta Se vuoi anche Certo Come dicono Come al solito Non riesco a vedere il titolo Quindi posso tenerti Fino a una certa Comunque Se in ascolto C'è un oculista Che vuole intervenire E dare una mano al bombasieri O qualcuno che vuole regalarci Un monitor Da 30 pollici Potremmo Potremmo Aiutare il bombasieri Nella conduzione Della mattinata Che insomma Già è difficile Di sé E quindi Potremmo aiutarlo meglio Comunque I Simpli Red Dicevano La cosa giusta Ed ecco qui quindi I Simpli Red Su Crystal Radio E caro i masieri Ci sono canzoni A volte Che ti dimentichi Che esistono Ma poi Quando le ascolti Ti riapre un mondo Quanto era bella Questa di Simpli Red Io ti dico Questa è stata Ascoltata a casa Perché è mio padre alvinino E immaginavo Conoscendo il personaggio Immaginavo E comunque Questa è la The right thing La cosa giusta Perché abbiamo messo La cosa giusta Perché stiamo parlando Del giardino dei giusti Con Manuela Rippo E allora Buongiorno di nuovo A Manuela Perché è ancora rimasta Qui collegata con noi Perché appunto Stiamo raccontando Questo giardino dei giusti Ma Manuela Giardino dei giusti Chi sono questi giusti Ricordiamolo Perché è sempre Molto importante E molto bello Ricordarlo Chi sono i giusti I giusti Sono degli uomini E delle donne Che si sono trovati In una situazione Di male estremo E che di fatto Hanno aiutato Hanno salvato Hanno denunciato Si sono battuti Per difendere Un altro essere umano Da crimini Contro l'umanità Da situazioni In cui Nell'altro Vittima Come dicevamo Di persecuzioni O di Di violenze Nell'altro Hanno riconosciuto L'umano E per questo Hanno agito Cercando Di salvarli Storicamente Storicamente Manuela I giusti Nascono I primi giusti Sono coloro Che hanno salvato Gli ebrei Dal nazifascismo Nasce lì Giusto Poi però Si è evoluta In un senso Ahimè Ahimè Ne sono arrivati Altri dopo Perché significa Che il genere umano Non impara mai niente Poi anche Il giardino dei giusti Di fatto Trae ispirazione Dal giardino Dello Yad Vashem Dove sono onorati I giusti Tra le nazioni Il giardino dei giusti Di tutto il mondo Quindi quello che abbiamo A Milano E ricordano Esistono in realtà Circa 200 giardini In Italia e nel mondo Su ispirazione Del giardino di Milano E vengono onorate Figure Per tutti I genocidi A partire da quello Almeno All'inizio del secolo Precedente Fino ad arrivare A quelli che sono Contesti Attuali Immigranti Il terrorismo Fondamentalista Oppure abbiamo Visto situazioni Più recenti Come la polizia Etnica nei Balcani I conflitti Che attualmente Sono presenti In Siria Per esempio E negli anni La fondazione Garivo Di fatto Oltre ad organizzare Tante attività Al giardino dei giusti A promuovere La nascita di giardini In tutto il mondo Fa un accurato Lavoro di ricerca Di queste figure Esemplari Che raccoglie All'interno Di un'enciclopedia L'enciclopedia Dei giusti Per entrare Però nel giardino Dei giusti Per essere Onorati a Milano Riceviamo Ogni anno Come associazione Tante richieste Tante richieste Tra cui Ovviamente Quelle presentate Stesso Da giornalisti Da storici Da ricercatori Per essere onorati Direttamente Con una targa Al giardino E Ricordiamo Che non avendo Uno spazio infinito Vengono onorate Solo delle figure Emblematiche Che rappresentano Una categoria Purtroppo Non possiamo Accoglierli tutti Per questo motivo Qualche anno fa Abbiamo Inaugurato Una nuova Una nuova Modalità Una nuova procedura Ovvero La raccolta Delle figure Che vengono Presentate Dalla società Civile Sul sito Di Garivo www.garivo.net È possibile Trovare alcune Indicazioni Su come Presentare La candidatura Vengono Raccolte Dalla fondazione E poi Vengono Esaminate Dal comitato Dei garanti Dell'assemblea Che fa parte Poi dell'associazione Capito Garivo G-A-R-I-W-O Punto Dicevi Punto Net E potete Io vi assicuro Ne ho visti un po' Di Giardini Giusti Io ho avuto anche la fortuna Di andare in Armenia Poi vedere quello che c'è Anche là Appunto A Yerevan Ho avuto la fortuna Di vedere Quello che c'è In Rwanda Sono posti Sicuramente dove All'inizio L'impatto è forte L'impatto è forte Ma poi Davvero Diventa Interessantissimo Scoprire Quello che sono Le storie E soprattutto In realtà Se ne esce Con un grande spirito Di speranza Perché è vero Che tutto questo Avviene In situazioni Gravissime Genocidi Pulizie etniche Ma in quel Momento grave Brutto Bruttissimo Drammatico Qualcuno Ha fatto la cosa giusta E quindi C'è questa grandissima Speranza Che ti lascia Nel genere umano Che da una parte Commette atti Atroci Ma dall'altra C'è sempre Quello che dice Il famoso Io non ci sto Non c'è altro senso C'è chi dice no Come dice Vasco Ecco in questo caso I giusti Sono quelli Che dicono no E che fanno qualcosa Per aiutare Infatti Io sintetizzerei Con Sono sul sito Dell'associazione Giardino dei Giusti Milano Con questa frase Che secondo me Racconta perfettamente I giardini Sono come i libri aperti Che raccontano Le storie dei giusti Infatti E non sono luoghi Di tristezza Cioè per niente Trapperti che sono bellissimi Perché veramente Sempre verdi Sendo giardini Cioè si sta bene Sono sempre luoghi pazzeschi Perché comunque Ragazzi Da Montetti San Siro Montestella è un posto Pazzesco Cioè andate su C'è una vista Ora del tramonto Vi innamorate di Milano Cioè andate su con qualcuno Vi sposa sicuro Cioè è anche un luogo Ottimo per quello Quindi insomma No no Ricordiamo però Manuela appunto L'appuntamento L'appuntamento di domani Giusto? Assolutamente Ci vediamo domani In realtà è tutta la giornata Quindi dalle 10.30 Fino alle 20 Ci sarà sempre Qualche attività Al giardino Vi aspettiamo È possibile Prenotare le visite guidate Il laboratorio Su Eventbrite Ma invitiamo Tutta la cittadinanza A venire a fare Una passeggiata Anche solo Per scoprire Questo luogo Per leggere Il nome di un giusto Su una targa O per ascoltare Un po' di musica Insieme a noi Perfetto Allora Lascio a te la chiusura Lorenzo Saluta la nostra Grazie Manuela Grazie a voi Appunto Cercate Informatevi Sul Giardino dei Giusti Che è una realtà Bellissima Siamo in chiusura No 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 Abbiamo tempo ancora Per una canzone Tra parentesi Sono in 15 Che cantano Tra una bella altra Ma tra cui C'è Ernia Non ne vedo uno C'è Ernia C'è Ernia Che abita proprio Dalle parti C'è cresciuto Dalle parti Quindi sostanzialmente Montestella Infatti Quindi insomma Rimaniamo lì in zona Chissà quante volte Magari mi è passato Lì e si è fatto Qualche domanda E che magari Qualche canzone Si è stata ispirata Da qualche targa Letta Non so Lo chiederemo a Ernia Adesso andiamo Adesso andiamo Alla San Carlo E chiediamo L'ospedale Ernia Non l'hai capita Ok Grazie ancora Manuela Grazie Grazie Manuela A domani allora Con la comunicazione Appunto Dal Giardino dei Giusti E noi appunto Andiamo avanti Con Ernia Brescia E Fabi Friber Insieme Insieme Per Parafulmini